Buona serata Massimo Bermatti, ciao Massimo, ben ritrovato. Buonasera a tutti. So che hai un saluto Massimo. Sì, ho un saluto particolare. Un'altra barchetta. Sì. Ah, aspetta. Adesso sfrutti la televisione per le tue barchette. Aspetta un attimo, fammi salutare. Hai detto che era barchetta. No, non l'ho detto. Io l'ho detto e tu hai detto sì. No, non è una barchetta. Chi è? Chi saluta? Personal trainer. Il mio personal trainer di fiducia che fa... Guarda, vedi, guarda. Vedi quel braccio lì me l'ha fatto lui. Quindi... Ah, abbiamo anche... Sì, si chiama Stefano Marini. La foto. È bravissimo. Credo che sia il miglior personal trainer italiano. Veramente. Potrebbe veramente fare il preparatore atletico... Ma anche tu tipo. Guarda come la gonfia. Lo fai l'ho. E gli onbi? Visto che bicipiti... Eh? Non ti offre... Non faccio nessuna punturina. Alimentazione. Cura tutto. L'alimentazione veramente. Stefano Marini, sei un grande. Numero uno. Numero uno. Non sei garantito allenamento gratis per un paio d'anni. Questa è una marchetona, mica da ridere. No. Come lavora? Dove lavora il personal training? Arbor Club Milano. Ecco, niente. Scusa, non ho capito. No, l'ho sentito parlare anch'io. L'arbor Club Milano è... L'ho sentito parlare anch'io, molto bravo. L'ho sentito parlare anch'io. Mi pare di esserci stato. L'ha fatto anche lui, guarda. No, ne ho sentito parlare. Io non l'ho mai usato. Non l'ho mai usato per parlare anche Riccardo Ferro. Io sono stato all'arbor Club. Esatto. In lo tempo c'era Tavigia. C'era già lui. Tavigia era direttore. C'era già lui. Bel club l'arbor Club. Questi sono temi interessanti, signor Elio. Non conosco, non conosco, come si chiama il... Sì, Marini Stefano. Stefano Marini. Sì, va bene, ho capito, ora basta. No, ne ringraziamo. No, salutiamo Stefano. Se hai bisogno di un personal training, c'è Stefano Marini dell'arbor Club. Tutti all'arbor Club di Milano. Saluto Gianluca Savoini. Ciao Gianluca, benvenuto. Ancora l'arbor Club sei ben stato. No, io penso che magari ci potremmo dare... Magari anche Stefano Marini ti può dare... Saluto Gianluca. Tra l'altro sono molto felice perché oggi c'è la bella notizia che Cannavaro... Via la notizia.